Ultimamente sei tua, che deciderai la strada, io resto dietro di te. La colpi sassi, ottoni, una scatola quadrata, o un passatempo inutile, sinceramente da un po', si, 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 di me la giornata, non posso dire di no. Usciamo fuori dal quartiere una volta al mese, solo di sabato, ma pensa che coincidenza. Chiedi un autografo all'assassino, guarda il colpevole da vicino, e approfitta che resta dov'è. Toccagli la gamba, fai una domanda, che arriva. Spietata 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione